Eccomi di nuovo a voi in formato di cartone animato, Gali Papalo, questo è uno Skaven. Lo Skaven medio è alto circa un metro e mezzo, è più codardo ed ego riferito di Starscream ed è coincidenzialmente l'esempio perfetto per spiegare l'oggettivismo rendiano. Ma prima di tutto va spiegato cos'è il fascismo, perché molta gente non sembra capirlo bene. C'è chi crede che sia solo un sistema ordinato, ma non lo è. Anzi, è un sistema strapieno di corruzione e servilismo, dove dire a chi sta al potere quello che vuole sentirsi dire è più importante dei risultati concreti. Le regole e l'ordine ci sono, ma solo per i più deboli. C'è chi crede che sia solo la controparte di destra del comunismo più dittatoriale, ma non lo è. Il comunismo è nato come una ricerca di leggi più giuste per un popolo oppresso ed è poi stato strumentalizzato dai dittatori, mentre la dittatura è il principio fondamentale del fascismo. E c'è chi crede che sia semplicemente ogni singola legge che lui non piace e che grida allo stato di polizia ogni volta che deve rispettare lui delle regole, ma gli sta benissimo quando le regole si applicano ad altri e sono violazioni dei diritti umani. Toltoci questo discorso alle balle, procediamo. Gli Skaven sono un esempio lampante di come mai il fascismo e l'oggettivismo rendiano non possono fisicamente funzionare nel mondo reale o in un mondo immaginario che abbia una parvenza di senso. Sì, ho appena detto che un fantasy retconnato di continuo è più realistico di un mattone di fantapolitica. Fatemi causa per quel che mi frega. Analizziamo gli Skaven come fazione. Per come la si volti e la si giri dovrebbero avere già vinto, perché non sono semplicemente la fazione più numerosa, oh no, sono letteralmente più numerosi di tutte le altre fazioni messe assieme. Non solo, ma hanno anche mostri da guerra di grosso calibro, macchina guerra con una tecnomagia ere avanti rispetto al resto del setting, maghi sottosteroidi, armi batteriologiche, ninja. Non sembra neanche concettualmente possibile che non abbiano ancora vinto. Il problema è che ogni singolo Skaven, dal più insignificante schiavo carne da cannone al più potente grigio veggente o capo clan, pensa solo a se stesso ed è a malapena tenuto in riga dalla paura che ha verso i suoi superiori. Arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Uno Skaven saboterà quelli sotto di lui per impedire che diventino potenziali rivali, i suoi pari per sbarazzarsi di rivali già esistenti e, se crederà abbastanza di poterla fare franca, anche i suoi superiori. Ogni singolo Skaven è talmente ossessionato dall'idea di essere il più meritevole di successo, anzi l'unico meritevole di successo, che farebbe perdere la propria intera fazione giusto per assicurarsi che non sia un altro Skaven ad avere la gloria. È letteralmente quello che facevano in diversi dipartimenti del Reich. Fate conto che esistevano multipli programmi per la costruzione dell'atomica che, invece che collaborare, si sabotavano a vicenda per meglio competere in servilismo nei confronti del Führer e far fare brutta figura a tutti gli altri. E questo spiega come mai, nel mondo reale, e almeno in parte sensato in cui viviamo, l'oggettivismo rendiano non può funzionare. Mettiamo per assurdo che ogni singola persona al mondo diventi oggettivista, ok? Esisterebbero solo due opzioni possibili, una delle quali, per concetto, impraticabile. Ovvero che la stragrande maggioranza della popolazione mondiale accetti spontaneamente e consapevolmente di fare da schiava ai cosiddetti eccezionali. Quelle masse brulicanti esistono al solo scopo di portare i pochi esseri eccezionali sulle loro spalle. Questo è l'unico modo in cui una società oggettivista si possa effettivamente realizzare, ma è anche impossibile, perché l'appeal degli iscritti di Heinrich sta nel fatto che ogni singolo individuo che li appoggi è convento di essere uno degli, appunto, eccezionali. Come può formarsi volontariamente una casta schiava se ognuno è convento di dover avere, per diritto di nascita, la posizione di più privilegiato tra i privilegiati? L'unica altra opzione di conseguenza è che ognuno si consideri l'eccezionale che merita di essere servito e riverito, e ovviamente neanche questo può funzionare. Non solo dal punto di vista logico, ma anche perché è contrario ai principi dell'oggettivismo stesso, perché tutti sarebbero da considerarsi, ironicamente, ugualmente eccezionali e quindi alla pari. Bizzarro, non trovate? Credo che sia ormai chiaro che l'oggettivismo non è una corrente filosofica, è una scusa per essere stronzi prepotenti e sentirsi superiori nel farlo, travestita da corrente filosofica. In effetti, Ayn Rand si è dimostrata pessima come filosofa, oltre che come persona, in quanto non sapeva partecipare in maniera etica e intelligente a ciò che definisce la filosofia e l'ha sempre definita, ovvero il dibattito con un altro filosofo. La strategia di Ayn Rand per dimostrare la supposta superiorità dell'oggettivismo rispetto ad ogni altra filosofia post-aristotelica, infatti, consistiva nello sbagliare di proposito a citare gli altri filosofi, in modo a far sembrare che dicessero cose stupide e insensate, cosicché l'oggettivismo apparisse migliore per confronto. Dicesi in retorica delle stronzate. E in nessuno dei suoi scritti questo è chiaro, quanto nel fermaporte astutamente travestito da narrativa noto come la rivolta di Atlante. Per sintetizzare una storia lunga, e Dio solo sa se sto mattone ne ha un bisogno disperato, i capitani di industria non vogliono rispettare le regole, così se ne vanno in una comune in cui viene rivelato che sono bravi in tutto in quanto capitani di industria, e fanno collassare la società occidentale dal punto di vista economico perché se loro non hanno il diritto di fare tutto quello che vogliono non cambia di niente, allora tutti gli altri devono pagare. Solo vogliamo sul fatto che le industrie non funzionano così, perché non è che se, per esempio, Bill Gates crepa la Microsoft crolla, ci sono ancora gli investitori, il consiglio di amministrazione, i capi dei vari dipartimenti, gli impiegati operai che fanno effettivamente la parte lavorativa. Notizia shock, la teoria del grande uomo, ovvero che senza una manciata di uomini straordinari la storia cambia radicalmente, ha senso solo in contesti dove esistono i superpoteri, non nella società reale. Il punto è che ciò che Ayn Rand dipinge come un coraggioso atto di ribellione è in realtà un capriccio da bambini viziati. Non mi fate vincere e io buco il pallone così non gioca più nessuno. Infatti, nel corso della storia, i capitani di industria fanno del loro peggio per impedire che il mondo si risollevi, addirittura arruando dei mercenari per distruggere le infrastrutture. E questo dimostra che la loro stessa tesi è sbagliata. Se loro fossero così indispensabili per far funzionare la società, non avrebbero bisogno di distruggerla attivamente una volta ritiratesi. Non c'è quindi da sorprendersi se gli Skaven hanno fatto qualcosa di simile. Frustrati una volta di troppo dai loro continui fallimenti, hanno deciso che se il mondo di Warhammer non lo conquista o loro, non lo conquista nessuno. E hanno così deciso di sfracellarci sopra la luna, stile Majora's Mask. Ovviamente, essendo loro dei falliti fatti e finiti, non ci riuscirono, principalmente perché la Moon May Lord Kroak tornò in vita e fermò la luna con i suoi E questo ci porta all'individuo forse più oggettivista della letteratura fantasy, secondo solo ai sociopatici ipocrite che Terry Goodkin vorrebbe far passare per eroi. Il grande ratto cornuto, il dio degli Skaven. Essendo un oggettivista, odia i suoi stessi seguaci in quanto a lui inferiori, ma visto come funzionano gli idee di Warhammer, ovvero che le idee li plasmano, l'idea di ogni single Skaven di essere meritevole e eccezionale costringe il gran ratto cornuto a ricompensare nell'aldilà ogni Skaven che muore dannogli il rango di Vermin Lord. Ricordate quando vi ho detto che gli Skaven sono più numerosi di tutti gli altri messi insieme? Immaginate un'orda composta da ogni Skaven che sia mai morto, infiniti milioni di miliardi, ognuno elevato al potere di un demone maggiore. Siamo fottuti! E con questa premessa, il fatto che l'oggettivismo impedisca a questi tangheri di roditori di vincere spiega come mai la filosofia remdiana non può funzionare. Il grande ratto cornuto ne è pienamente conscio, odia l'universo perché lui è toccata questa razza di sfigati, ma, essendo oggettivista, rifiuta la propria parte di colpa, pur avendo dimostrato che, quando si prende la briga di comportarsi a dio, anche solo vagamente competente, è in grado di mettere gli Skaven in riga e renderli una minaccia concreta. Solo che di buzzo buono ci si è messo esattamente una volta, perché effettivamente fare qualcosa per ottenere il successo che ritiene spettargli non è abbastanza oggettivista. Tutto dovrebbe essere disservito su un bastione d'argento perché lui è un eccezionale. Insomma, stiamo parlando della filosofia secondo cui far esplodere un palazzo pieno di persone perché i tuoi finanziatori hanno apportato leggere modifiche estetiche a suddetto palazzo, è considerato un gesto da eroi perché compiuto da un eccezionale che rifiuta di scendere a fatti con il consorzio civile dei non eccezionali. Va anche detto che Ayn Rand ha dichiarato di suo pugno che un serial killer stupratore era per lei il modello di eroe a cui tutta la società dovrebbe aspirare. Quindi si può aspettare qualcosa di decente da una persona del genere? Pace e bene, noi ci vediamo al prossimo cartone. Ciao ciao! Ciao ciao!